Musica Raccolta dei rifiuti ad Alcamo, pugno duro dei vigili urbani al via controlli a tappeto contro il conferimento irregolare previste pesanti sanzioni. Alcamo Marina, tra le località a maggiore densità abusiva sul demanio marittimo, il procuratore di Pisa fa il quadro della situazione nel Trapanese. La guerra delle concessioni demaniali al porto di Castellammare del Golfo, il comune prova a frenare le autorizzazioni ai pontili, chiesta la posizione del vincolo in tutta l'area. Silenzio della regione sul rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera della distilleria Bertolino di Partinico. La deputata nazionale Claudia Mannino denuncia tutto alla Commissione europea. Porto di Balestrate ancora chiuso, protestano gli esercenti, non pagheranno più le tasse sino all'apertura della struttura ai diportisti. Tra le attività in programma per rivitalizzare il corso stretto di Alcamo, anche un raduno d'auto d'epoca, aperte le iscrizioni. Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Alpa 1. Apriamo con la cronaca. Incidente stradale sulla Palermo Sciacca. Un'auto, mentre procedeva in direzione Palermo, si è schiantata contro il guardrail gravi. Le condizioni del conducente Antonio Giampino, di 21 anni, che a quanto emerge dai primi rilievi, ad un certo punto avrebbe perso il controllo dell'auto, una Fiat Punto. Il giovane è stato trasportato con l'elisoccorso presso il reparto Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. La vettura è stata sequestrata. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al termine dei rilievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Siamo ad Alcamo, parliamo della raccolta dei rifiuti. Pugno duro dei vigili urbani al via i controlli a tappeto contro il conferimento irregolare. Una squadra di caschi bianchi e un tecnico dell'Emeri batteranno quartiere per quartiere e sono previste sanzioni pesanti. Toleranza zero contro chi sporca la città. È partita una task force organizzata dal comune di Alcamo in collaborazione con l'Emeri Ambiente, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio. È stata istituita una squadra di quattro vigili urbani che, accompagnati da un tecnico dell'Emeri, controlleranno strade e piazze affinché venga rispettata l'ordinanza di conferimento all'esterno dei sacchetti della spazzatura. I sacchetti verranno aperti per verificare la corretta esposizione del rifiuto in base alla giornata di raccolta e anche al rispetto dell'orario. Abbiamo avuto molte segnalazioni, afferma l'assessore all'ambiente del comune di Alcamo, Salvatore Cusumano, di zone inondate di sacchetti della spazzatura poco dopo il ritiro effettuato dalla società. Questo è inaccettabile, considerando oltretutto che abbiamo fatto per ben due mesi una serrata campagna di sensibilizzazione sul tema, continua ancora Cusumano, avvisando la gente porta a porta sul rispetto dell'ordinanza di conferimento dei rifiuti. Ad Alcamo si effettua in tutto il territorio la raccolta differenziata porta a porta. Al mattino a giorni alterni, secondo i quartieri, vengono ritirati in differenziato organico, mentre al pomeriggio si ritirano carta, vetro, metallo e plastica. È stato fatto un accurato lavoro da parte delle medie del comune, mappando la città in 14 zone diverse, in modo da agevolare la raccolta, distinguendola in giornate diverse a seconda anche del rifiuto da conferire. Il problema essenziale è che ancora in molti non differenziano correttamente i rifiuti, mischiando le diverse tipologie. Ciò rende complicato il trasferimento nelle piattaforme e lo smaltimento, annulgando quindi anche le operazioni e comportando anche un aggravio dei costi del servizio. Lunedì e martedì scorsi sono stati effettuati i primi due giorni di controlli, che hanno però dato esito negativo. Non abbiamo riscontrato alcuna infrazione nel conferimento, precisa il vice comandante dei vigili urbani, Salvatore Fazio, dopo diverse ispezioni effettuate nei vari sacchetti posti all'esterno delle abitazioni. Analoghi controlli saranno effettuati in base soprattutto alle situazioni di criticità che ci sono state segnalate dalla stessa Emeri. Le emergenze ambientali riguardano sia alcune zone del centro storico sia delle periferie. La nostra attività comunque non è solo rivolta a questo tipo di controllo, ma anche controlli un po' più tecnici, diciamo, con alcune telecamere che sono installate in alcuni punti sensibili del nostro territorio, che è a contrasto soprattutto con l'abbandono dei rifiuti tossici tra i quali, diciamo, l'Eternit. I trasgressori vanno incontro ad una multa salatissima. Secondo quanto stabilito da una originaria ordinanza del sindaco Sebastiano Bonventra, le multe vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. Una successiva ordinanza però ha stabilito una cifra fissa relativamente alla multa pari a 200 euro se la sanzione verrà pagata entro 60 giorni dalla notifica, altrimenti lieviterà inevitabilmente. Ovviamente, trattandosi di rifiuti, ci possono essere anche quei casi che se presuppongono anche procedimenti penali. La Procura della Repubblica di Trapani ha avviato un'indagine per chiarire le cause della morte di Hans Theo Gorz, un barbone di 72 anni da tempo residente a Nubia, deceduto all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. L'uomo, al momento dell'arrivo al pronto soccorso del nosocomio, presso il quale è stato trasportato d'urgenza, presentava una ferita alla testa. Secondo i carabinieri che indagano sul caso, l'anziano, dedito all'alcolismo, potrebbe essere inciampato sbattendo violentemente il capo. Il magistrato inquirente ha disposto l'autopsia. Un disegno di legge che prevede il condono per i proprietari delle abitazioni realizzate abusivamente tra il 76 e il 91 nella fascia dei 150 metri dalla battigia. È stato presentato dal deputato regionale Mimmo Fazio, in particolare chiede di tutelare quei nuclei familiari che hanno nella proprietà in questione l'unica abitazione. E Alcamo Marina è proprio tra le località a maggiore densità abusiva sul demanio marittimo. Il procuratore capo della Repubblica di Marsala Alberto di Pisa fa il quadro della situazione nel Trapanese, in cui solo nel 2012 sono stati accertati 3.500 abusi edilizi e disposte 1.200 demolizioni, ma ne sono state eseguite soltanto 98. Si torna a parlare dell'abusivismo sulle spiagge, nelle zone limitrofe, sul demanio marittimo. Se ne torna a parlare in Sicilia, ha parlato il procuratore della Repubblica di Pisa a un convegno. 40 anni di edilizio, ha detto, selvaggio hanno fatto gravi danni alle nostre coste. Adesso ci vuole tolleranza zero sull'abusivismo edilizio. L'abusivismo edilizio, ha detto il procuratore di Pisa, è un malcostume che danneggia l'economia e il paesaggio. Oltre l'80% delle costruzioni abusive sorgono in zone a rischio. Un assalto alle spiagge e alle zone costiere, quelle degli ultimi anni senza precedenti. Addirittura nel 2012, ad esempio, sono stati accertati 3.500 abusi, disposti alle demolizioni di 1.200 case. Ma ne sono state eseguite soltanto 98. Sul campo delle demolizioni, ha detto ancora di Pisa, nei mesi scorsi è stato firmato un protocollo d'intesa alla Prefettura di Trapani proprio sull'iniziativa della Procura di Marsala. Insieme alla Procura c'è anche la sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. La Prefettura, gli assessorati regionali al territorio e alle autonomie locali, i comuni di Campobello, Castelvetrano, Marsala, Mazzara, Pantelleria, Petrosino e Salemi, nonché i collegi provinciali, degli ordini degli architetti, degli ingegneri e dei geometri. È emerso, ha detto sempre il procuratore di Pisa, che non esistono indirizzi di tutela di vita per contrastare trasformazioni sul suolo costiero. Ci sono ritardi culturali che alimentano comportamenti omertosi. I costi per i comuni trapanesi da sostenere, intanto per gli abbattimenti, sono molto elevati, nonostante tali somme dovrebbero essere recuperate da chi commette l'abuso. In tutta la Sicilia, in particolar modo in provincia di Trapani, si presentano lungo le coste siciliane case abusive che deturpano il paesaggio, Coltriscina, la spiaggia più abusiva a quanto pare d'Italia, poi ancora Alcamo, Alcamo Marina, Campobello di Mazzara e Marausa. Di Pisa ha concluso che ci saranno sanzioni pesanti per i comuni che non accelerano entro quattro mesi l'itere delle demolizioni. Così come sotto osservazione sono i dirigenti dei settori che si occupano degli immobili abusivi. Non ha esitato ad aprire fascicoli e non esiterà a farlo, ha detto se i funzionari pubblici saranno troppo lenti nelle pratiche. Con solo 13 voti di scarto, Vincenzo Nuzzo è diventato il nuovo presidente della banca di credito cooperativo Dorrizzo di Alcamo, battendo l'uscente Giuseppe Mistretta. Nuzzo ha ottenuto 785 preferenze a Mistretta, che era presidente dell'Istituto dal 1999, sono andati 772 voti. La guerra delle concessioni demaniali al porto di Castellammare del Golfo, il comune prova a frenare le autorizzazioni ai pontili, chiesta la posizione del vincolo in tutta l'area. Il procedimento adesso nelle mani della sovrintendenza ai beni culturali. Il comune di Castellammare del Golfo prova in tutti i modi a bloccare le concessioni demaniali. Dopo il tentativo di concertazione fallito con il demanio, ora la giunta guidata dal sindaco Nicolo Coppola sta procedendo ad immettere il vincolo di tutela nella zona antistante il porto. L'amministrazione comunale passa così alla seconda fase del lungo braccio di ferro sulla vicenda. In questo modo, in caso di approvazione del vincolo, si verrebbero a bloccare le concessioni demaniali, così come auspicato dal comune e non solo. La giunta ha deliberato quindi di attivare le procedure, interessando della questione alla sovrintendenza ai beni culturali, che si era espressa pure per il blocco delle concessioni a tutela dell'area portuale. In particolare, l'amministrazione Castellammarese falleva sul fatto che la normativa in materia dispone che la sovrintendenza può avviare il procedimento per la tutela indiretta anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati. Il diniego alle concessioni demaniali viene giustificato dal comune sostenendo che si vuole garantire il mantenimento di una libera veduta dalla costa del complesso culturale ambientale formato dal castello sul mare ed il realizzando fronte a questo prospicente. Recentemente quest'area ed il prospicente specchio ed acqua è stato interessato da procedimenti finalizzati all'ottenimento della concessione demaniale per la realizzazione di pontili e attrezzature di interesse per la nautica da di porto. Il primo cittadino ha deciso di adottare il pugno di ferro in materia. Ritiene inaccettabile che un territorio turistico come Castellammare debba soffrire di queste situazioni ambientali che ne pregiudicano immagine ed ecosistema. Non a caso nei giorni scorsi la giunta municipale ha stabilito di costituire un'apposita squadra di vita esclusivamente a questo tipo di controlli che avverranno addirittura a cadenza settimanale. Il castello è un bene ambientale che sta sul mare non può stare sulle barche o sui pontili questo non è accettabile allora per fare questo abbiamo coinvolto tutte le realtà del paese tutte le associazioni, tutta la politica e tutti siamo dalla stessa parte è un bene che non può essere offeso. Ci sono state diverse conferenze di servizio per discutere la querelle ma alla fine è emerso che il demanio non bloccherà l'iter delle concessioni lungo l'area portuale castellammarese presa di posizione che ha scatenato la reazione del sindaco che ha già annunciato una vera e propria battaglia legale con l'Agenzia dello Stato. In questa vicenda c'è da tenere in conto il parere negativo già espresso dalla sovraindendenza ai beni culturali e il mancato pronunciamento in merito della sovraindendenza del mare. I dubbi sarebbero legati al fatto che l'installazione dei puntili dalla Cala Marina a Cala Petrolo potrebbero deturpare una fascia costiera dove ricadono possibili reperti da tutelare specie in prossimità del castello. Dal suo canto il demanio ha risposto picche al comune precisando che al rilascio delle concessioni non sono vincolati né dal parere della sovraindendenza né da quello dell'ente locale. Ieri seconda giornata del ciclo di conferenze della Guardia di Finanza di Trapani con il Tribunale di Trapani e Marsala riguardo all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia e la formazione della prova in dibattimento nel caso delle tipiche indagini economico-finanziarie. Durante gli incontri sono stati presentati gli applicativi informatici utilizzati dalla Guardia di Finanza nelle indagini per la ricostruzione degli interessi economici patrimoniali e finanziari degli indiziati mafiosi e dei loro prestanome. La Regione ancora non si pronuncia sul rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera della distilleria Bertolino di Partinico. La deputata nazionale Claudia Mannino dichiara si tratta di gravi inadempienze e denuncia tutto alla Commissione europea. Finisce sui tavoli della Commissione europea la questione delle emissioni in atmosfera della distilleria Bertolino di Partinico. Una denuncia a firma della deputata nazionale del Movimento 5 Stelle Claudia Mannino è partita per gli uffici di Bruxelles per fare chiarezza sui ritardi che si sono accumulati per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni dell'industria del palermitano. La Bertolino, la più grande industria di distillazione d'Europa lavora principalmente i prodotti e sottoprodotti vitivinicoli per la produzione di alcol etilico da vino acqua vite da vino ed alcol denaturato producendo esalazioni maleodoranti che si diffondono per le vie della cittadina. L'ARPA per mettere fine a questa situazione ha inviato una nota agli enti competenti al fine di promuovere una revisione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi che tengano conto proprio delle criticità relative alla problematica degli odori. Era il dicembre del 2011 quando la Bertolino presentò regolare stanza di autorizzazione all'assessorato regionale territorio e ambiente e da allora, sono passati due anni e mezzo, si attende il pronunciamento. Sino ad oggi praticamente l'azienda ha proseguito l'attività in regime di prorogazio, cioè sulla scorta della precedente autorizzazione. Nonostante i diversi solleciti ufficiali, afferma Claudia Mannino, ad oggi gli impianti della Bertolino continuano a lavorare senza che nessuna nuova autorizzazione sia mai giunta. Visto che tale problema è ancora lontano dall'essere risolto, continua, ho deciso pertanto di rivolgermi alla Commissione Europea denunciando svariate violazioni. Le violazioni a cui si riferisce e la deputata nazionale che rischiano di esporre ad una procedura di infrazione sono relative alla direttiva europea che prevede la verifica e l'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente e che dice che al riesame si procede in ogni caso quando l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite d'emissione stabiliti dall'autorizzazione o l'inserimento di valori limite nuovi. A mio avviso, inoltre, conclude la Mannino, ci sono tutti i presupposti per un'ulteriore inadempienza che riguarda anche la non osservanza della direttiva che dice che le installazioni a 20 impianti di combustione con input termico totale di 50 MW o più devono avere un permesso integrato. Sonia Pericoli, 31 anni, trapanese, il nuovo segretario generale Wiltem Trapani, la categoria che si occupa dei lavoratori temporanei, autonomi, atipici e con partita IVA, è stata eletta nel corso del congresso di categoria celebrato nella Camera Sindacale Territoriale di Trapani. Porto di Balestrate, ancora chiuso, protestano gli esercenti, non pagheranno più le tasse sino all'apertura della struttura ai diportisti. L'opera completa dal 2009 è mai rimasta impigliata nelle maglie della burocrazia. Questo esercizio ha soppresso qualsiasi pagamento di tasse e contributi locali e nazionali sino all'apertura del porto di Balestrate. È uno dei diversi cartelli esposti in vetrina dagli esercizi commerciali balestratesi in questi giorni. Un'iniziativa provocatoria nei confronti delle istituzioni e ai vari livelli additate di essere le colpevoli per quanto sta accadendo attorno alla mancata apertura del porticiolo turistico di Balestrate. Completato oramai dal 2009 ma rimasto intrappolato da una serie di vicende di carattere tecnico, giudiziario e burocratico. Da tempo gli esercenti stanno manifestando il loro dissenso. Anni fa si è persino costituito un comitato con l'obiettivo di interloquire con gli organi competenti per arrivare ad una soluzione che sino ad oggi non c'è stata. A soffrire di questa situazione ovviamente l'intera economia locale non solo gli esercenti ma tutto ciò che gira attorno al mare a livello di indotto. Io ho fiducia sul porto di Balestrate perché sarà tanto lavoro perché anche con la mia categoria di pescatore sto perdendo la usanza di andare a mare e allora se ho la possibilità che vengono motoscafi e vengono tanta gente io mi dissocio di fare il pescatore e farò il lavoro con il motoscafo. La Regione attraverso il suo ufficio legislativo non si è ancora pronunciata sui tre ricorsi più avuti nelle scorse settimane per l'affidamento della gestione del porto alla società marina di Balestrate. Sembrava che il lungo iter fosse giunto oramai a completamento ed invece proprio questi tre ricorsi che evidenziano presunte illegittimità hanno nuovamente bloccato tutto. Il sindaco Totomilazzo ha già informato di tutto il Consiglio Comunale e non sono mancate le polemiche. Il primo cittadino ha preannunciato che se al più presto non arriveranno risposte lui per primo organizzerà una mobilitazione in paese. Già nelle scorse settimane a causa proprio di questa raffica di esposti il Consiglio Comunale si era espresso insieme all'amministrazione per rinindicare l'assegnazione della gestione provvisoria in forma diretta. Più una provocazione che una reale presa di posizione dal momento che un servizio simile necessita di esperti del settore. Il porticello turistico è costato la bellezza di 30 milioni di euro e può garantire 570 posti barca da di porto e altri 120 per moto pescherecci. A complicare tutto, prima i ricorsi al TAR del Comune di Balestrata per l'affidamento della gestione dell'aria poi l'indagine della Procura sull'utilizzo di cemento depotenziato per realizzare l'infrastruttura e poi ancora i problemi legati all'insabbiamento ed anche ai tanti atti vandalici di cui ancora oggi il porto rimane sfregiato. In ultimo anche i ricorsi tanto per mettere la ciliegina sulla torta. Verrà inaugurato sabato 17 maggio a Marettimo nei locali dell'oratorio parrocchiale dove si trova la Guardia Medica dell'Isola al centro ascolto tribunale per i diritti del malato. L'iniziativa è dell'Assemblea Territoriale di Trapani di cittadinanza attiva Ollus Sicilia ad illustrare lo scopo e la funzione del centro ascolto sarà anche il commissario straordinario dell'ASP di Trapani Fabrizio De Nicola. Tra le attività in programma nel calendario stilato dall'amministrazione comunale per rivitalizzare il corso stretto di Alcamo in collaborazione con le associazioni anche un raduno d'auto d'epoca che si terrà il 24 maggio già aperte le iscrizioni ma sono a numero chiuso. Tra le manifestazioni in calendario nel progetto del comune attività in corso anche un raduno di auto d'epoca. Quando si terrà? Il raduno si chiama Auto Storica in Corso si terrà il 24 maggio, è un sabato e nella fattispecie il pomeriggio dalle 3 e mezza fino penso alle 22. Come si svolgerà la manifestazione esattamente? Sì, allora praticamente c'è appuntamento in piazza Bagolino con le auto si farà un giro per la città quindi le vie principali della città Corso, Via Letalia, Via Europa insomma per poi ritornare di nuovo nel corso stretto e si parcheggia nel corso stretto sarà aperto solo alle auto d'epoca alle auto iscritte e dopodiché si parcheggia lì nel corso ci sarà una guida che spiegherà sia la storia della città che è l'architettura della città visiteremo dei siti quindi comunque delle sculture delle architetture della città lì in logo quindi comunque inerente il corso stretto e dopodiché c'è un aperitivo al living room col calice di vino e un cono gelato al caffè Nannini Tutto compreso nell'iscrizione che lo ricordiamo entro quando deve avvenire? L'iscrizione è entro il 20 di maggio al numero 338 16 54 999 e la quota partecipativa è 6 euro a persona Abbiamo visto che nella locandina della manifestazione c'è il logo del movimento ABC ma si tratta di una manifestazione senza colore politico? Assolutamente sì è una manifestazione non politica e ABC è un'associazione che comunque organizza anche eventi di carattere non politico e quindi questo è uno di quelli Siete tra le associazioni che hanno incontrato l'amministrazione proprio per stilare questo calendario di eventi? Sì sì, c'erano diverse associazioni infatti tutto il mese di maggio come già bene avete detto e sapete ci saranno manifestazioni proprio con il programma attività in corso Intervento di disinfestazione l'arvicida di tutto il territorio comunale alcamese nella notte del 21 maggio in orario notturno dalle 23.30 alle 5.30 darne notizie al settore servizi al cittadino ambiente e sviluppo economico ai cittadini vengono rivolte le raccomandazioni del caso non lasciare finestre aperte ed alimenti e piante aromatiche esternamente ai piani bassi proteggere ciotole e abbeveratoi degli animali se si verificassero avversità atmosferiche l'intervento verrà effettuato la notte seguente Castelvetrano si prepara ad accogliere migliaia di persone per il corteo storico dedicato a Santa Rita con abiti d'epoca, tamburini, sbandieratori e spettacoli teatrali ci sono tutte le premesse per uno spettacolo grandioso Tutto pronto per i festeggiamenti che Castelvetrano dedica a Santa Rita anno dopo anno sempre ricchi e molto articolati con momenti celebrativi spazi di riflessione preghiera secondo la tradizionale liturgia ritiana nel nome della Santa durante le celebrazioni tutto l'interland belicino e non solo si riversano in città grazie alla creatività e alla passione dei castelvetranesi la devozione si è trasformata in coinvolgimento per dare vita al corteo storico arrivato alla dodicesima edizione che rappresenta in sintesi gli episodi salienti della vita della Santa degli Impossibili che sfila per le vie della città con solennità complice anche la magnificenza dei costumi fedeli riproduzioni degli abiti dell'epoca si inizia sabato 17 con il corteo della nobiltà castelvetranese che si concluderà nel sistema delle piazze davanti alla chiesa del purgatorio si svolgerà il consueto rito della proclamazione a primo principe della città Carlo d'Aragone taglia via il ricordo dell'avvenimento proprio per farne rivivere fasti avverrà al suono del rullo dei tamburi e lo squillo delle chiarine in sintonia perfetta col periodo storico aragonese e poi domenica 18 con partenza alle 17.30 dalla scalinata Santa Rita in piazza stazione si snoderà per le vie del centro il corteo in tutto il suo splendore con la partecipazione degli sbandieratori dei tamburini e dei musici medievali della corte d'Aragona di Catania e del gruppo dei tamburi aragonesi banda storica voluta fortemente e creata dal centro studi sui usi, costumi e tradizioni medievali Gennaro Bottone proprio in memoria dello storico presidente scomparso alcuni anni fa il gruppo formato da giovanissimi castelvetranesi e guidato dal maestro Pietro Fiandra si è distinto in diverse manifestazioni storiche anche al di fuori dei confini regionali quest'anno la conclusione delle due serate nel sistema delle piazze sarà affidata alla compagnia teatro del ramino di Ascoli Piceno che proporrà due spettacoli stanziali con la messa in scena di una grandiosa rappresentazione il cui cast è formato da attori su trampoli macchine pensili e a terra lo spettacolo si intitola a stolfo il viaggio, la luna, la pazzia e anche a Castellammare del Golfo domenica si terrà il corteo storico di Santa Rita e per la prima volta dal 19 al 21 maggio verrà esposta per la venerazione la reliquia di Santa Rita i festeggiamenti proseguiranno fino a giovedì 22 maggio si conclude così questa edizione del nostro telegiornale adesso come di consueto la rubrica 3 minuti con click del professore Vincenzo Lucchese grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento buongiorno a tutti leggeremo copia della delibera di giunta municipale la 147 del 24 di aprile del 2014 contributo alla congregazione della Sagra Famiglia per la realizzazione della festa del patrocinio il presidente della congregazione il signor Pietro Boni e allora di che cosa si tratta? si tratta in pratica di dare un contributo difatti la giunta propone di deliberare con riferimento a distanza di assegnare un contributo di 500 euro alla congregazione della Sagra Famiglia di Alcaon per la realizzazione della festa del patrocinio in piazza Ciullo il giorno 11 di maggio ora io mi chiedo qui in questa domanda che ha fatto diciamo la congregazione della Sagra Famiglia non c'è presentato nessun bilancio di previsione e quindi io vorrei capire come mai cioè l'amministrazione comunale dà 500 euro alla congregazione non perché non gliele debba dare ma su quali basi cioè perché 500 non gliele può dare 1000 o 1500 cioè quali criteri si usano se non c'è una richiesta particolare e se non c'è nemmeno un bilancio di previsione va bene ma queste sono sempre fiseme mie perché oramai la vecchia mi ha fregato parliamo invece della delibera di giunta 152 del 29 di aprile 2014 diciamo lo strumento che meglio risponda alle esigenze di questa amministrazione risulta essere quello fornito a titolo gratuito dalla ditta Maiora Labs di Roma di che cosa si tratta? in pratica si tratta di un controllo per il decoro della città decoro urbano è uno strumento per le pubbliche amministrazioni un social network in cui chiunque può creare il proprio profilo dal sito web o attraverso l'applicazione smartphone scaricabile gratuitamente negli application store per iphone e android o in alternativa con il proprio account facebook le segnalazioni possono essere inviate dal sito attraverso la procedura guidata o via smartphone dove è sufficiente lanciare l'app e scattare una foto per far sì che il dispositivo vi associ automaticamente alle coordinate gps cioè il punto dove uno vuole fare notare e visualizzi la segnalazione sulla mappa da quel momento gli utenti possono commentarla condividerla online e sottoscriverla accrescendo nella visibilità allo stato attuale tale strumento permette di inviare segnalazioni via smartphone e pc in merito a rifiuti dissesto stradale zone verdi vandalismo incuria segnaletica affissioni abusive tale segnalazioni vengono sottoposte ad un controllo preventivo da parte del team di Maiora Lab al fine di evitare la pubblicazione di segnalazioni non pertinenti successivamente vengono pubblicate su decoro urbano e l'ente proposto le visualizza sul proprio pannello di controllo e comunica allo stato dell'operazione gestendo gli interventi in base alle priorità decoro urbano è una grande banca dati che mostra in modo completamente trasparente segnalazioni relativi all'intera superficie nazionale il comune che aderisce al progetto appare in decoro urbano come comune attivo dispone dei seguenti strumenti per la gestione del servizio home page personale applicazione smartphone personalizzata accesso amministratore con pannello di controllo materiale divulgativo ora io voglio dire che i cittadini quando vedono che c'è qualcosa che non va come per esempio rotture dei tubi dell'acqua dove l'acqua fuoriesce da tutte le strade avvisano l'amministrazione comunale e però se ne fregano perché diciamo le riparazioni avvengono dopo 4-5-6 giorni non so dopo quanto tempo se trovano rifiuti lo segnalano ora non tutte le persone possono sanno usare diciamo che cosa lo smartphone l'iPhone Android e tutto il resto cioè chi può usare queste cose solo pochissime quindi su 36.000 abitanti che siamo tenendo conto diciamo di quelli dei votanti io penso che sia no per essere bravi un centenale 200 persone ma già è assai possono usare queste apparecchiature elettroniche e quindi secondo me è una cosa che non funziona invece funzionano i suggerimenti diciamo gli interventi dei cittadini che notificano all'amministrazione comunale se ci sono cose che non vanno quindi questa mi pare tipo le solite cose che si fanno per dire ah il comune di Alcamo però adesso fa parte del decoro urbano eccetera eccetera fare il decoro urbano non è che si fa solamente perché ci sono queste persone che possono usare l'iPhone l'Android lo smartphone e tutto il resto quindi non lo so fino a che punto è per adesso c'è scritto io ho letto il regolamento che è a titolo gratuito per almeno un anno poi magari dopo un anno dice però noi adesso vogliamo essere pagati va bene andiamo avanti e parliamo di altre cose no anzi non parlo più di niente perché i tre minuti sono trascorsi grazie come sempre ci rivedremo alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.